Sto con le mani così come fanno quelli che raccolgono l'elemosina, per riprendere il mio. Ma l'elemosina per riprendere il mio? Perché qui si chiede l'elemosina, non si chiede il nostro, si chiede l'elemosina. Si sono incatenati davanti alla procura retina per chiedere giustizia. Sono i risparmiatori azzerati di Banca Etruria che hanno organizzato un nuovo sit-in di protesta proprio di fronte agli uffici giudiziari di Arezzo, con tanto di cartelli, striscioni e catena ai polsi. È un anno e mezzo che vediamo solamente persone assolte, tutto assolto, tutto viene archiviato. Quindi non ce l'abbiamo con il procuratore in generale, ce l'abbiamo proprio in generale con la giustizia, con il sistema giustizia. Circa una trentina i bondisti azzerati presenti questa mattina sotto le finestre della procura. Io sono indignato, mi vergogno oggi come oggi se vado all'estero di dire che sono italiano. Io la prossima volta che vado all'estero tutto dirò, meno che sono italiano, mi vergogno. Io per ora sono un po' oppresso, poi continuo a combattere anche per gli altri perché è giusto, l'unione fa la forza. Molto duro l'attacco ai magistrati ma dagli ambienti giudiziari fanno sapere che invece si sta facendo molto per individuare tutte le responsabilità. Pustite, 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 pustite!